Ieri abbiamo firmato un accordo economico del contratto scuola, è un accordo che sono previsti da subito nel mese di dicembre, gli arretrati e in busta paga un acconto di quello che sarà dato poi in seguito dopo la registrazione del contratto. È stata tenuta in debita considerazione tutta la progressione di carriera del personale ATA, del personale anche docente, sicuramente al tavolo siamo stati attenti a voler garantire che dopo ci sarà sicuramente una sequenza contratuale dove andremo a snocciolare tutte le problematiche inerenti alla normativa e a quant'altro. Oggi siamo contenti perché si è sbloccata una situazione, non siamo proprio pienamente soddisfatti perché sappiamo che gli aumenti dovevano essere ancora più corposi. cominciamo da qui anche perché il ministro ha sottoscritto un accordo dove ha assicurato che troverà altre risorse e che saranno delle risorse utilizzate per il fisso, per il tabellare di tutto il personale della scuola, dal personale ATA al personale docente e in seguito chiaramente ci sarà anche il contratto per i dirigenti, ma siamo attenti anche a quelle che saranno le problematiche dell'Università dell'AFAM e anche di tutto il mondo della ricerca.